Ecco Domenico della parruta che guida la macchina Oggio, per la prima volta stiamo fermati, ora partiamo Allora Ed ha capito come si parte Già una grande cosa I ragazzi capisci Sta facendo ballare la macchina Secondo me la stai cendo a Castellammare domani non ci arriva No, arrivi Eh ma se ci arriva, ci arriva a 40 km orari, più di quella non potrà andare più Da quando l'ho fatto scendere a 140 su quella della strada Ecco Domenico come si prova a portare la macchina? Per la prima volta ti devo dire la vita, è una sensazione bellissima Ma perché non più quando è ruolo? Perché avevo un freno che è facile Ecco che fare lo xenoprovocante Si vede Non volevo appicciare io E così si fa Oddio, oddio Ma lardo Non me lo so ne è putta la macchina Ecco padre Adesso secondo te perché a me invece può spericolare Non ti preoccupare la bici che stanno i piloti Eeeh Eeeh Un neopiloto vero? Un neopiloto bravo Un posto in terra Che c'è stanno posto l'osso? Ok Ok Ok, scherzo a me nel braccio, t'hanno capito C'è un giranno Ci vedo in grifo Oggi fanno amano a casa Guarda con unappa Fammi, aspetta Non è la rica Apoi Flavio, mi fai fatto la retromarcia Cresce No! Eeeh No Allora, fratello Stamics Aspetta Chaccia, fratello Stai schiacciando Tratta le chiamate Ma posso, ma c'è tra si che c'è la decimente domani così ma così girare ma questo lo metti su facebook certo ma cazzo ma io sto parlando con mano porca se devo fare a posto vai vai fortuna che sta mai andando a gas così non avessi mandato a mezzare lì e poi qualche volta non mi metto 5 euro di gas ma mi hai portato a mezzo per car non direi non lo faccia proprio basta ora che la prendo qua sta sicuramente mi c'è se è finito come c'è no però è molto capace però mette bene ragazzi guida come fosse un neonato di due anni a mezzo ma il cao ciò cazzo comunque c'è da dire che è la prima volta che porta la macchina alla minicola dell'averuta peccato che il video oh 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 descansa pure gli fuos descansa eh per il mio occhio per la macchina però tempi per il mio coppolo freno vediamo una macchina che si sta cagando sotto si allarga per favore e dopo ci vogliano i freni a mano di migliaia cortese e dopo devi freni a mano di migliaia cortese ma cosa fai no devi pure la terza da ciutta non andando ok e dopo ciò c'è e poi mi metto a farci e poi usciamo a frenare a mano che sta comunque c'ho una smanella a me no ti hai capito il piovelo con un po' eh sì sì tranquillità e lei comunque rimu do quando c'è a mo' a fermare no e lei non c'è e ieri e tu mi sono chi fornisce le mani neanche vuoi non so neanche un guas anzi lo è passato a bensinetto poi mi ha messo pure la bensinetta la bensinetta mu serve un buon la bensinetta e tu non sei che vuolta ma eh dice come a me o meglio meglio no poi per quello di mio padre ah quindi bene a volte suoi frani Non è che si è un bravo, capito? Eh, però prima di capire Vicenza ci fanno poco sciogliere questa macchina Eh sì, perché ora sto facendo anche un petto Si sta prendendo il tempo del video Buona, guarda dove si è posto? 5 minuti e 2 Non ci stiamo a raggiungere, raggiungere